Danni e disagi dopo il nubifraggio che ha colpito il Salernitano nella serata di ieri. I maggiori problemi si sono registrati nell'agro Nocerino Sarnese, nella zona di Cava dei Tirreni, nel Capoluogo e in alcuni comuni dell'area sud. Le due bombe d'acqua abbattutesi sulla provincia nel giro di 30 minuti hanno provocato non pochi disagi anche nella zona dei Picentini e della Piana del Sele. Numerosi gli allagamenti registrati a Ponte Gagnano. Nei pressi del sottopasso di Via Torino in particolare si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per mettere in sicurezza Via Alfani ed il sottopasso stesso, completamente allagato. Disaggi seppur in misura minore anche a Bellizzi, Battipaglia ed Eboli.